vergogna 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 come avete come avete potuto 84 per cento l'ottanta un maledizione maledizione vergogna avete un rotolo di sushi al posto del cuore vergogna vergogna ingrati 27 reti in una stagione maledetti no comunque so a parte le battute ciao a tutti intanto spero stiate bene il dramma il dramma però però posso dire una cosa è coerente con con il nostro con la nostra essenza tafazziana no che il miglior giocatore quello che ci salva e ci conduce sparisce sparisce ma era ovvio io nel momento in cui ho comprato è arrivata questa stamattina ero certo questa adesso me la incornicio ci faccio il quadro con questa qua e sarà nel mio nel mio prossimo studio dietro di me ma vorrei farmene una ogni anno sul giocatore più rappresentativo però alla fine ci sta ragazzi per oggi è troppo piccola per lui ha deciso di lasciare ma se ne pentirà ecco e chissà magari tornerà da noi prima o poi sarebbe bello sarebbe bello insomma dobbiamo 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 prendere atto che così stanno le cose questa andrà a far compagnia alla maglietta di butkus che mi devo fare una serie faccio tipo il museo dei sogni infranti ecco comunque questa ragazzi questa me la tengo vicino tutta la live me la tengo qui vicino vicino al cuore me la tengo qui no allora intanto intanto ragazzi spero spero che siate bene e fatemi fare un po' di ringraziamenti intanto che partiamo allors allors ehm do state che devo ringraziare fermi un attimo allora whatever i'm not 17 ore fa nel silenzio della notte grazie ehm maria cocco grazie per la prima Andrew eh grazie per la prima Zenith grazie per la ventitreesima quasi doppio falchiversario Soldowski grazie per la quattordicesima ehm questa carriera per me è nella top 3 assolutamente mi dispiace per The Midnight Live ma se c'è nel lavoro chiamano ma ci mancherebbe ragazzi ti consiglio Merlin eh ci vuole un un mago Merlin effettivamente in questo momento di tristezza me lo segno e vedremo cosa accadrà poi Antonio Ioro grazie per la 32 grazie di cuore ehm Droneysher grazie per la no la prima non è la seconda grazie Greg per la prima anche a te grazie a Santos per la 13 state rendendo meno amaro il il momento di addio Plush grazie per la 25 Asano vi verrà sempre nei nostri cuori ma no vabbè ma mica è vero però è come se fosse Ciccio grazie per la seconda no non è vero io leggo due minuti fa e dico seconda ma in realtà è la prima grazie a Ciccio grazie a VR ehm a VR Totor grazie per la sesta grazie di cuore livello 1 grazie a Broddo per la quarta ehm grazie a adesso Furneram che per la quattordicesima condivido con te questa gioia domenica ho esordito in serie C pallavolo facendo benino perché l'abbiamo perso 3-0 in casa ma con l'ultima ehm con l'ultima però ho esordito l'importante è quello auguroni e in bocca al lupo per il resto della tua esperienza Takumi Fludec grazie per la per la prima sub livello 1 Cataldo Bob grazie per la per la terza ehm che non è vero sono 3 mesi si è la terza giusto Joshua grazie per la prima iniziamo benissimo oggi sono già listo Edolean grazie per la terza Jack Bicicletta grazie per la prima Stepancio grazie per la seconda Luis Fabietto grazie per il falchiversario grazie di cuore Domi Jay grazie per la undicesima ci siamo quasi amico mio Tommy Di Giù grazie per la decima Manu Morghi grazie per la prima Manu Morghi Rocius grazie per la prima Lorenzo grazie per la prima Cristian Tomeo grazie per la prima Trex Sbarazzino grazie per la quattordici Pero9703 grazie per la nona ehm Bav Jones 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 Wav Wav Jones Quav grazie per la prima Rufi Gear grazie per la prima di livello 1 grazie davvero Vito Vittorio Sbardella grazie per la nona ma quanti cazzo non la siamo raga Canez grazie per la prima e Blatter grazie per la diciottesima ragazzi ci siamo allora allora mazza siamo già 900 ma quanti cazzo non la siamo ultimamente ma è normale sta cosa ehm Takumi Fludek grazie per il 100 Mambella Oilund per sostituire il compiatissimo Asano e speriamo arrivi in tempo il resoconto Matte Joker grazie per la terza comunque raga è allora bisogna dire una cosa la squadra è 100 volte peggio dell'anno scorso quindi per adesso diciamo che salvarsi sarà sarà un disastro è un disastro io intanto vado a vedere Merlin il buon Merlin mago poi il bello è che io come al solito ho mandato i resoconti tardi per cui non arriverà mai Quentin Merlin è un dramma ragazzi è un dramma è un dramma è un dramma totale Franci grazie per la terza ora i 100 milioni sappi che puoi fare un mercato clamoroso un mercato disastroso noi sappiamo già che cosa farai ma è ovvio ma che domande Ghina grazie per la prima e grazie a De Max per la quarta e grazie a Danto MCR per la seconda grazie grazie a te ma ci mancherebbe Nakamura si sta ancora magari De Max Valerio grazie per la decima è vero che sia lui l'erede che sia lui l'erede il vecchio Benjamin Dino Stable grazie per la prima grazie di cuore grazie ad Andrea Aius grazie per la prima comunque ragazzi siamo siamo messi male siamo messi male siamo messi male malissimo malissimo cioè oggi sta accadendo veramente l'imponderabile io io non io non ero pronto a vendere a Zano minimamente ero convinto che ce l'avremmo fatta anche se una parte di me sapeva che non sarebbe andata così quindi per il momento Mariano mamma mia vabbè che Dio ci aiuti Faust & Furious grazie per la prima grazie di cuore grazie a Federico detto Fred per la prima grazie a Baximo per la quarta grazie a Pierpaolo per la nona e grazie a Tomy Cavalluccio per la sabre galare grazie ragazzi devo farlo tornare l'anno prossimo avete ragione Asano tornerà Asano tornerà serve il pirata a 1005 il pirata l'ho detto a 1005 a 1005 il pirata io sono di parola ragazzi la maglietta lo dimostra se dico una cosa la faccio grazie ad Eurani per l'ottava Eurani grazie di cuore grazie a Mr. Ginari per la 32 comunque sarà sarà drammatico ragazzi questa volta questa volta sarà no la metto perché faccio faccio la colla se metto pure questa fa abbastanza caldino dentro casa grazie a Manfo per la 29 grazie di cuore people for the win da Parigi grande dai lo so ci sono ci sono tanti che sono giustamente tristi all'idea che vada via può togliere solo la carriera ma in realtà FV noi queste questi imprevisti come ben sai li facciamo per creare un po' di imprevedibilità e alla fine se ci pensiamo ragazzi io ho letto un commento su Instagram sotto alla foto della maglietta di oggi grazie grazie ad Alex Fabri intanto e cioè da una parte se ci pensiamo è presumibile che Asano non avrebbe ripetuto quella stagione meravigliosa che ha fatto quindi piuttosto che perderlo con la stessa tristezza con cui tristezza è un po' di schifo con cui abbiamo perso Bo Time alla fine Asano rimarrà per sempre nel nostro cuore come l'eroe della salvezza rimarrà leggenda e non ci sarà modo di sporcare quella leggenda così facendo se vogliamo c'è anche un credito poetico quindi alla fine pure Neyland se l'avessimo venduto subito dopo la serie B sarebbe rimasto il portiere dei portieri adesso ogni volta che lo nomino ho un conato quindi è un po' così è un po' così Asano come Higuain al Napoli esatto come Milito esatto cioè piuttosto che che sporcare un po' il suo il suo il suo il suo percorso la sua leggenda piuttosto va via così ci lascia anche perché poi se vogliamo è anche un po' è anche un po' realistico cioè uno che fa 27 gol va a giocare altrove Paola grazie per ricetta come stai seguo la live mentre vanno l'esame di statistica in bocca all'uovo in bocca all'uovo mi raccomando Tommaso Manovelli grazie per l'ottava e Novara nel cuore grazie per la quarta Luca davanti eh Luca potrebbe essere il puntero italiano chi lo sa vediamo un attimino vediamo come è messo Luca infatti non faremo mai in tempo ma mannaggia a Real Madrid vabbè non viveremo mai nella vita ragazzi mai nella vita mai nella vita allora io direi intanto intanto di cominciare a fare una cosa importante ovvero mettere ai noi ai noi ai noi in lista trasferimenti il buon Takuma purtroppo purtroppo è così purtroppo è così allora Luca Luca allora io devo fare una cosa però devo fare una cosa prima allora siccome saremo costretti a fare acquisti alla cieca in alcuni momenti io salverò prima di ogni acquisto alla cieca qualora dovesse superare l'overall ricaricheremo e torniamo indietro perché appunto come ben sapete siamo a 81 quindi dobbiamo necessariamente limitarci a quello non potendo abbiamo stare con la nostra nel mondo reale sarebbe diverso ma chiaramente facciamo così quindi intanto abbiamo messo Asano in lista trasferimenti grazie a Big Pericento grazie a Destroyer per la prima sub grazie ti avevo già ringraziato ma nel dubbio ti ringrazio di nuovo Stefan grazie per la 21esima Kudus al centrocampo e Antist in attacco Kudus è da tanto che lo sento nominare Kudus un attimo ho letto una cosa AJGR33N grazie perché c'è il simbolino quindi mi sa che se al giorno ti dà anche la possibilità di condividerlo l'altrano dovrebbe andare in prezzo come il vero Bonucci scusate ma Bonucci non fu venduto dalla Juventus al Milan no 84 niente fu venduto fu venduto e ricomprato eh fu venduto e ricomprato quindi eventualmente ce lo ricompreremo SB KTT grazie per la prima grazie il cuore eventualmente lo ricompreremo ragazzi Nate Shepard grazie per la prima peraltro peraltro va a far compagnia a Romeo che magari prima o poi lo riusciremo a comprare sto Romeo prima o poi chissà quando andremo alla se mai andremo a fare la Champions magari ci prenderemo sia Asano lo riporteremo a casa e sia sto Romeo che vorrei farci una partita onestamente dopo averlo in qualche modo cresciuto noi ok Asano per chi fosse arrivato adesso purtroppo sia in vendita è arrivato l'84% il sondaggio quindi non abbiamo raggiunto il 90% che serviva però diciamo che pure 84% è stato una bella un bel traguardo devo dire il nostro Tony penso abbia già smesso però Tony no Luca Tony bel tempo eh lo so te la vi in der in der queue grazie purtroppo lo so ogni anno mi scordo puntualmente allora ragazzi io intanto inizierei andare a vedere l'hub mercato il momento della verità dunque noi abbiamo una situazione abbastanza delicata io vorrei prendermi qualche nome anche di qualità sinceramente perché ci starebbe ci starebbe qualcuno di un po' no importante Domenico Esposito grazie per la sub per la prima e grazie a Dino Stable per la sub regalata no ne ha regalati due grazie di cuore grazie di cuore allora 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 a me Zaha piacerebbe tanto perché per il ruolo che abbiamo noi un esterno che sa saltare l'uomo e sa dribblare con cattiveria sarebbe una manna dal cielo sarebbe veramente una manna dal cielo però prima di tutto io vedrei Luca è saltato all'Empoli fermi non lo danno in prestito lo proviamo a prendere acquistato Albus grazie per la 19 ci proviamo Luca proviamoci dai da FM con furore allora cioè io non ho idea di quanto costi e il dramma è quello mandiamo Asano a Real Madrid e poi ce lo riprendiamo Sapone grazie per la prima Asano voglio mandare Asano a Real grazie a real grazie sui 20 proviamo proviamo Asano più 20 22 Carletto Carletto 21 dai a Carletto ammazza quanto ti accogli 21 e 3 dai 21 e 3 il piccolo Luca una punta una punta per delle soluzioni alternative ci serve anche perché un puntero può servire anche come falso 9 li fa fare boa se lavoriamo un po' sulla tecnica alle brutte sarà plus valenza ragazzi alle brutte sarà plus valenza famo anche il mercato con una certa intelligenza ok serve uno di peso ragazzi ci saranno i fratelli a Sarda ad accoglierlo ho salvato ho salvato ragazzi è sopra 81 ricarico Lorenzo Luca è un ma quale B ma che cazzo 80 80 yes 79 peraltro vabbè ce sta quindi dunque Luca Luca è velocità 75 fisico 80 aggressività buona percorso forza 90 velocità scatto 82 controllo valla 78 dribbling 80 passaggio corto 69 ci lavoriamo potenziali dire 89 però beh ragazzi lo mettiamo inizieremo con lui punta eventualmente valuteremo valuteremo il da farsi però intanto la punta la punta pulita poi valutiamo allora è questo è questo diciamo che per adesso per adesso fatemi vedere un attimino un paio di cose stantuna mi hanno provocato dicendo che mi innamorerò Uriel andiamo a vederlo e vediamo un po' anche Okafor 83 mannaggia la miseria dunque 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 davide grazie per la seconda nano felice grazie per la seconda embolo viene 20 embolo no aperte che embolo ho l'impressione che sia bello carico embolo e VR ectotor grazie per la per i 5 abbonamenti regalati grazie grazie di cuore adesso daniele giuncio grazie per il rinnovo a 2 grazie di cuore adesso io devo devo tener fede a quanto detto e mi devo andare a pigliare il berna perché ogni promessa e ogni promessa non posso per adesso dunque noi adesso ragioniamo un attimo ragioniamo un secondo con molta calma allora noi adesso abbiamo l'erede di asano che è cochi cochi e renato cochi e maeda dietro a lucca quindi questo attacco nippo italiano ci piace ci piace le alternative sono mariano al posto di lucca e poi abbiamo i due atti che non ci sono sugli esterni felipe anderson e joe con alternative o e yoshida che yoshida è tanta roba lo stavo guardando l'altra sera ed è tanta roba yoshida con la possibilità appunto di mettere felipe sotto punta come suggerivano in chat e mettere yoshida a tutta fascia secondo me yoshida può essere una bella sorpresa esattamente come ferreira che è un ottimo un ottimo giocatore in prospettiva che potrebbe crescere un sacco tutti super offensivi lo so lo so purtroppo lo so poi quindi secondo me per adesso non è prioritaria la freccia ecco la punta della freccia secondo me è sufficiente per adesso ferreira non lo fa purtroppo purtroppo non lo fa con berna chiuderemmo il discorso esterno perché potremmo mettere felipe a falatti puro e start tranquillo siamo a 1.300 io ho paura siamo a 1.500 mi tocca prendere murici sparisco sotto la maglietta di asano e non ci sono più scala broncost grazie per la prima asana grazie davvero e allora questione chi sens questione chi sens un attimo un attimo questione chi sens abbiamo comprato uno che non che non fa una fava a livello difensivo perché è aggressività 66 allora o chi sens lo adattiamo sotto punta ma oppure lo usiamo per le plus valence eventualmente non lo vedo molto adatto a questo tipo di ruolo andrebbe preso un un cantè sinceramente più che un qui sens e quindi cioè chi sens sulla tre quarti non si sa bene cosa fa non ce lo dicono fofana del lens mi piace fofana del lens mi piace si fa fa fofa qual è quello del lens non è babacar sicuramente mamadu non è lui qual è quello del lens seco seco io d'altro lo adoravo pregavo che arrivasse alla lazio all'epoca invece invece no seco fofana allora fofana non sappiamo niente di lui però in questo momento non sappiamo neanche quanto costi amrabat ce l'avevo pensato ma amrabat è un po' lento amrabat è un pochino lento per quanto a me piaccia molto anche nella realtà però beh però 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 aggressività 77 vi leggo fofana è meglio allora salviamo e prima prende fofana dai chiaramente il salvataggio vale solamente in caso di overhaul maggiorato se salta la trattativa per qualsiasi motivo no è una sorta di tutela per eventuali errori sull'overhaul intanto grazie a Marco per la prima sub grazie a Fredda per i 100 che stanno avuto a fare l'attimo molto bene anche l'esterno adesso non mi dispiace grazie ad averlo detto Andrea Cic grazie per il doppio falchi versato grazie a Leo per i 100 se non hai soldi per cantetti ricordo che è in lista il mio talismano Michele collo collo è vero allora andiamo a provare seco fofana lui sarà quanto costerà intanto scambio giocatori li proviamo a mollare nessuno baschi rotto che fa saltare tutte le trattative quanto gli offriamo 15 13 14 diciamo che per sicurezza andrei sui 15 25 l'immorte famo 20 22 sono tesi vabbè accetto voglio vedere com'è ci serve uno buono abbiamo un sacco di esordi dai non si metteva a fa' mi dite sempre non far purciarlo per una volta che spendo per una volta che spendo intanto ho l'impressione che non sia under 81 quindi sto andando anche con una certa tranquillità per quello dunque fofana quanto c'ha vedete spendi sti sordi poi spendo eh speso troppo il vecchio secco dai farci vedere quanto c'hai uno di tamburi te prego te prego mi serve uno così a me al centro baschi rotto andato all'ajax grande baschi grande baschi quanto c'hai 82 porca 81 81 81 81 81 81 81 allora osserviamolo un attimo che bucio fisico 85 velocità 74 freddezza 82 velocità 79 corre forza 87 resistenza 91 è l'uomo che serviva contro la palla 83 contrasto di piedi 81 dribbling 81 passaggio corto 82 potenza di 83 bella così bella per fofanà bella per fofanà massa che bucio bene 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 ok si gode si gode si gode finalmente una notizia positiva allora detto ciò detto ciò ci siamo rafforzati un pochino devo dire per adesso sta andando ragazzi per adesso sta andando vilfrio è andato al milan per 85 bomboni ci serve priorità assoluta un dc vicino all'80 serve un dc vicino all'80 ci serve un dc vicino all'80 chi cazzarola prendiamo vicino all'80 allora ci sarebbe viti che io ripeto viti secondo me è una priorità assoluta viti è la soluzione 1,90 88 di velocità è perfetto per la difesa 3 ragazzi è perfetto viti io ve lo dico secondo me viti è la è la perfezione viti c'è la lorenzo e come gli rende a lorenzo viti gli rende bene vi leggo intanto vediamo se è giusto visto che pachi grazie per la prima sab grazie di cuore geremia ah non famo un tempo a vederlo questo raga non facciamo niente di lui è veloce se è giusto dunque lui ha elevazione intercettazioni scatto e velocità non è male però secondo me viti cresce un bot possiamo anche farci una bella plusvalenza in ottica futura se prendi viti hai il decreto crescita comunque potremmo allora aspettate facciamo un salvataggio un attimo facciamo le cose con calma è veloce lollo lollo rommi grazie per la prima sab grazie di cuore fatemi sab anche perchè appunto avendo preso avendo preso potremmo anche fare tutte e due comunque potremmo anche prendere entrambi i soldi ci stanno anche perchè l'overall del 81 ce lo sogniamo a gennaio la rosa si è impoverita approfittiamone adesso Alex grazie per la prima sab nessuno ci impedisce di piarlo allora intanto intanto io gli ammollerei il papa no però il papa il papa è un simbolo gli diamo ali ali e 10 quanto costerà 14 15 10 8 15 diciamo che 15 facciamo 13 e 13 ali 13 ali leva a rivendita no più che levare a rivendita gli leva un milione bella ok così ci siamo levati pure un piantagrane di niente che è successo vediamo un po' c'è giusto c'è vero a far turnover c'è giusto cruciale va bene lo posso accettare 3 anni va bene accetta va bene vedete inviolate 6 e 40 va bene il dubbio magari Alendare è capace di intendere di volere vediamo un po' se lo possiamo tenere oppure no se è giusto vediamo un po' 80 devo dire 93 di velocità 90 di accelerazione portarci su contrasto 84 passaggio corto 81 mi è anche regista difensivo mi è anche regista difensivo bello così a questo punto io direi che possiamo ipotizzare di avere Ito come alternativa difensiva ma anche come alternativa a Fofanà volendo dunque lui è destro lui è destro e lui è sinistro Fontana sta a sinistra Ndai sta a centrale Sanjus sta a destra Ito Jolly quindi difesa 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 pulita ragazzi Tanaka papettito Tanaka potremmo rimandarlo in prestito volendo Tanaka potremmo Tanaka in prestito via a coltivare il suo talento Ito va bene io a questo punto regà onestamente credo che con che Kissans o troviamo il modo di usarlo davanti o a poco senso tenerlo onestamente comunque ci siamo fatti un bel mercato adesso no non siamo siamo a 1458 non ce provate non ce provate 1461 no 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 io vedo 1461 no 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 che giornata oggi è un giorno triste per il calcio oggi è un è un giorno orribile per il calcio va bene va bene ahhh 31 anni raga questo ma c'ha pure la clausola del cistore a 13 milioni aiuto l'era della pirateria va bene vabbè piratismo va bene dai pago direttamente su lo pago lo pago lo pago direttamente senza perdere te 13 milioni pago 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 si perché non lo volevano vendere loro turn over turn over ma quale va bene ok non lo volevano vendere loro è il doppio imprevisto asano questo che cosa c'ha la giacca il pirata cos'ha il colletto che non va quanto gli do cosa c'ha il colletto il pirata 20 dai fate i seri è un 82 ma ragazzi è un 82 veramente piango tanto 20k dai 20 e 20 se li fai sono contento dei datteli guarda se li fai sono contento dei datteli torna in serie A il pirata 76 eh te pare bene allora intanto fatevi ringraziare mister niki per l'ottava sergia grazie per la prima drgsl y drgsly grazie per la prima grazie chiroga per i 300 dalla nobiltà del re salmone e il principe e il principe vilfrido al pirata ora siamo criminali esatto barbanero grazie per la sesta alecata grazie per la quindicesima il comma signore ha dato l'esito purtroppo peggiore tocca venderlo il marco grazie per i 100 colwil del brighton alexmjn grazie per la prima e il resto li ho ringraziati allora qual era il nome del tizio aspettate me lo sono perso colwil comunque allora abbiamo abbiamo murichi mariano e lucca 3 3 3 per 1 benissimo diciamo che siamo fin troppo carichi a questo punto fin troppo devo dire davanti allora detto ciò io direi la media l'alziamo poi esatto ma raga udoggi è è un terzino ragazzi che ci facciamo udoggi io vorrei provare solamente vabbè davanti stiamo a posto avevo puntato gioco pedro ma costa un botto caio giorgio ma costa un botto a dopo miretti e fagioli erano un'idea per il centrocampo ma a questo punto non servono più diciamo che siamo messi abbastanza bene ragazzi ci mancano gli esterni io avevo il sogno di za vi dico la verità vi dico la verità vi dico la verità secondo me beh intanto andiamo avanti abbiamo il mercato abbastanza bloccato in questo momento finché non va via qualcuno dunque l'offerta per papetti eeeh io papetti ma vorrei denè vi dico la verità beh oddio forse papetti a questo punto può effettivamente andare sondaggio sondaggio dai sondaggio lascio a voi papetti vendiamo teniamo fate voi effettivamente adesso abbiamo abbiamo abbastanza siamo messi abbastanza bene intanto cerco un attimo la maggior parte vuole vendere con gli imprevisti serve la panchina lunga effettivamente si effettivamente si vabbè vi vedo abbastanza propensi alla cessione per cui andiamo a trattare cerchiamo di strappare almeno 7 che si recuperiamo i soldi spesi per murici fanno 7 dai va benissimo e qua stiamo a posto poi si diceva si diceva si diceva dunque il berna l'ho promesso all'ultima volta proviamo ad andare a prenderlo allora io vorrei però levarmi un po' di gente non ho terzini gli potremmo dare consigli e 12 giusto gli diamo chi sans gli diamo asano bravi bravi bella idea asano asano e 5 milioni dai ci sta no se per diana no vabbè raga ce la facciamo costa un botto costa 10 10 possiamo salire a 10 anzi famo 9 e la rivendita al 15 ecco così asano lo mandiamo a toronto a svernare a toronto tutti cruciali vabbè la squadra delle prime donne all for one bene gli diamo 15 15 e 30 lacrime virili almeno 20 poco 20 20 e 40 all for one è arrivato benissimo allora quanto ci avrà se c'è 82 mi metto a piangere mi metto a piangere tantissimo fofana è ormai protagonista quanto c'ha takuma rimane sempre nel nostro cuore c'ha 79 vabbè a posto allora gli esterni stiamo a posto davanti stiamo a posto la squadra è finita giusto vedi se ci riusciamo secondo me la squadra è bella bella carica arrivata a sto punto Claudio Greco ma chi è questo ah questo è il coso ossica della 78 ivan drago attaccati interessante dunque offerta per Ivan Romano ecco Ivan vai vai prestito di un anno cambio di ruolo per fare blanco bianco allora piano di crescita bianco passa da 62 a 64 vabbè pensavo peggio io poi ragazzi vi ricordo che noi abbiamo anche un certo Maurizio Rizzo che è il nostro jolly di quest'anno voi non ci credete in Maurizio Rizzo ma io lo so che lui sarà la sorpresa della squadra ancora non lo sapete voi ancora non lo sapete ma è lui il vero talento di questa squadra comunque andiamo a prendere i video prima che ce lo fottano così almeno definiamo il discorso difensivo che non posso porca miseria ci stanno per fottere i viti ciao papa addio ciao papetti allo sporting per 7 milioni infatti siamo siamo messi abbastanza bene a brosa andiamo a prendere dove sto guardando al mercato viti è ancora qui allora andiamo a prendercelo abbiamo 25 milioni siamo tranquillissimi tranquillissimi non ce ne sono io vorrei provare a dare un viti gli offriamo 18 18 siamo coperti in tutti i ruoli eh ragazzi siamo coperti in tutti i ruoli non c'è più niente da comprare ragazzi con tutto il bene 12 non serve allora scusate 1 2 3 4 5 abbiamo 5 che serve giochiamo a 3 basta l'imprevisto stiamo senza difesa che serve l'avete visto l'anno scorso quanto poco quanto poco ci vuole a far saltare tutti i piani 14 consigli dai vediamo c'ha senso sta cosa c'ha senso sta cosa no no non c'ha alcun senso no infatti felice che siate d'accordo perché proprio non ha alcun senso anche secondo me raga fondamentalmente fondamentalmente non costa troppo raga costa troppo io gli posso da gli possiamo parlare da tanaga a sto punto no ta raga no allora raga niente offro gli offro 15 puliti e via diventi dall'otto contro offerta a 5 dai bene 15 milioni netti e buonanotte al secchio basta così almeno stiamo stiamo un po' più che raga secondo me viti diventa veramente un fenomeno e voi cioè vi vedo troppo tiepidi su viti sinceramente credo che sia un giocatore molto più forte di quello che lo state facendo apparire ma tanto quando hai famo eri di inviolate va benissimo ok quindi allora reparto difensivo stra stra completo stra completo ragazzi stra completo per i prossimi 10 anni non credo che dovremmo investire più mezzo euro sulla difesa e ta raga va in prestito via lontano da me raga la squadra è completa cioè i portieri ci sono la difesa stra completa centrocampo abbiamo Frendrup e Kissans se vogliamo una fase un po' più offensiva Fofanà e Samek se vogliamo quelli un po' più di contenimento sugli esterni Felipe Ferreira o Yoshida dall'altra parte Joe e Bernardeschi sottopunte ci abbiamo Maeda e Koki e Stacippa bene ci manca la T intanto mettiamo per adesso sono abbastanza abbastanza simili sono abbastanza simili allora io voglio scusate ma è una mia necessità vedere se riesco a prendere Zaa perché Zaa mi piace Zaa mi piace un botto al foot con dei giocatori che mi fomentano di più e sapete bene che per il sottoscritto il fattore fomento è fondamentale quindi se io ho il fomento famo i buchi allora 22 ragà questo sarà pure vecchio ma è stata a vedere le statistiche non ha i soldi è vecchio scambio con Kissans è 82 è fuori overall vecchio cala di brutto sì no però avete ragione il fatto della vecchiaia effettivamente non Boga sta a 43 milioni Minamino sarebbe buono ma se non avessimo già tre punte in questo momento non è il caso comunque potremmo anche tenerci due soldi per gennaio non è reato volendo onestamente potremmo anche iniziare a provare un po' la rosa intanto e vedere un attimino che succede io intanto andrei a provare la squadra abbiamo Luca che poi volendo si potrebbe anche adattare Joe un po' più avanti in caso di necessità c'è un sacco di drill certo il passaggio corto è un po' carente ma vediamo un attimo i piani di crescita un secondo allora vediamo i piani di crescita un secondo con calma all'andar va bene qua va bene ok poi St.Juist St.Juist lo facciamo lavorare sulla difesa che la velocità già c'è Viti lo facciamo lavorare anche lui sulla difesa e il fisico Fontana Rosa va bene Ito va bene Ndaye può lavorare sull'accelerazione un pochino Tanaka può lavorare sul biglietto per partire Fofana allora Fofana lavoriamo sul mantenimento del box to box qua va bene Samek va bene deve giocare un po' però Samek sta giocando poco Romano sta per andare via il Berna il Berna andiamo di mantenimento Joe comunque scusate un attimo ma se noi Berna ce lo inventassimo sotto punta no 40 settimane Berna lo può fare se noi metto intanto COC potremmo provare a fare un tentativo eh vedere se prende qualcosa perché chi sans lo può fare vediamo un attimo 5 settimane la T 2 settimane il COC proviamo a mettere chi sans a T e il Berna lo facciamo giocare esterno tranquillone 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 Joe non ha finalizzazione va bene a tutta fascia Yoshida fidatevi di Yoshida che questo è un drago secondo me lo vorrei adattare e di domanda Yoshida se io provo a cambiare di ruolo lo bruciamo allora lo lasciamo a lavorare ala invertita Ferrera va bene Felipe Anderson Felipe caro Felipe caro Felipe Felipe lo fa comunque la T eh Felipe lo fa eh sì Felipe lo fa Felipe a T Felipe a T intanto grazie a Daniele Benini per la prima salve come COC cresce che ne sapete che cresce come COC vabbè famoli tutte e due ah sì ecco perché cresce cresce vada per COC cochi cochi regista offensivo maeda mi tocca fare un altro anno con maeda piratismo marianismo e lucchismo va bene ma maeda maeda quanto si vende maeda maeda sta sui undici milioni potremmo vendere lui e prende minamino no no minamino no un'altra bip rega facciamo una partita intanto facciamo una partita prepariamo prepariamo la squadra allora io voglio però Bernardeschi titolare Lucca va bene Fofana Frendrup ok Fontana Saviti Giolo portiamo in panca assolutamente Samek va bene consigli leva del ritorno Kissans va bene Ferreira Samek Morici si ok abbiamo una squadra che voglio dire non è una brutta squadra non è affatto una brutta squadra non è affatto una brutta squadra potremmo provare Kissans un po' presto forse aspettiamo che faccia cambio di ruolo per provarlo voglio provare Ndai subito Viti a sinistra Ndai centrale Senju sta a destra raga se quest'anno non ci serviamo il problema lo so io tutto il bene per me stesso ma mi sembra un anno positivo ecco dai allora imprevisto della giornata della partita 3 2 1 nessuno imprevisto vale andiamo andiamo a provare andiamo a provare intanto vi apro la bet per la prossima partita vale vedo risiate Sguco grazie per il falchiversario grazie a Saturn per i 100 Kvara assolutamente si lo andiamo a vedere che offerta è la scusate mi sono perso Fontana Rosa 26 milioni si te piacerebbe va bello sai questo quanto vale frampardanni sai questo quanto vale frampardanni mio caro lo seguiamo lo seguiamo e d'altro devo continuare a seguire Asano sarà sempre nei nostri cuori Asano lo lasciamo lì Lorenzo Trivilino grazie per la prima sub allora numeri di maglia signori dove sto andando a fare numeri di maglia numeri di maglia allora Alem darla 1 la 10 a chi la diamo quest'anno vabbè intanto scusate ma la 7 a Felipe è intoccabile la 10 alberna mi dovete far morire così la 10 alberna quindi questo impone la titolarità credo ok bene poi al pirata gli diamo la 32 che fu di Vieri no al pirata la 10 le capo di titolare no no mi rifiuto la 9 al look che tendenzialmente dovrebbe essere il titolare grazie Daniele assolutamente sì è arrivata grazie grazie di cuore Dyson la 17 la 11 a Koki la 6 a Fofana poi in difesa io direi viti la 3 dagli la 5 se è giusto gli diamo che gli diamo la 2 e la 26 la 26 la 4 la 4 la condizionale Siete veramente I peggio Poi Frendrup gli diamo la 99 No la 8 a Frendrup Che è libera A Samek gli do la 25 Che ci sono affezionato La 19 che fu di Adano la ritiriamo E basta Questo è ragazzi Il grosso l'abbiamo fatto Iorio grazie per la 17esima Ti sei perso l'inferno Devi recuperarla indifferita Amico mio Abbiamo venduto, comprato E' arrivato Bernardeschi Morici 69 a O La 69 a O Ok E' 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 Facciamo già La 99 Nont è andato al Milan ragazzi 85 milioni Pronti Si parte E' questa nuova mirabolante avventura Vediamo dove ci porta C'è un po' C'è un po' di paura Speriamo bene ragazzi Speriamo bene Il premesso abbiamo fatto prima Raga Non è uscito niente Si parte Squadra rinnovata Venduti tutti i giocatori Più importanti Si sente l'audio No non si sente Adesso si sente Grazie per la segnalazione Adesso si sente Adesso si sente Il premesso fatto prima Eh ragazzi Curioso Sono molto curioso Io le slide ragazzi Quest'anno non le toccherei Quelle dell'anno scorso Andavano bene Bravo Berna Subito Berna Però No niente Dyson sottoporta Si conferma Terribile Si conferma terribile Oh il buon Pipe Da calcio d'angolo Beh i miei calci d'angolo Sono leggendari No cochi No cochi Ma stavo farai L'armadio Il Berna Mi dai l'uomo Ma se non Tieni di fisico tu Ma chi deve tenere Bravo Vedi Vedi il portiere Averci il portiere Questo era già un gol Con Neeland Ha fatto la parata Incredibile ragazzi È andato giù In un nanosecondo Bravo cochi Usa bene il fisico Per proteggere Palla Ciao misera Bravo No Mamma mia Mamma mia Sei giusto Bella difesa Comunque adesso Devo dire Credo che prenderemo Forse un po' meno Di 90 gol Quest'anno Cochi Subito cochi Eh sempre nella tradizione Nipponica Il piccolo cochi Il piccolo cochi Lo sapevo che cochi Avrebbe 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 fatto innamorare Assist di Lucca E gol di cochi Fermi L'erede di Asano Che sia lui Che sia lui L'erede di Asano Io di certo Me lo Me lo Me lo auguro Raso terra Come Asano Ed ecco dunque Arrivando il primo Cosa di l'incontro La squadra La squadra quest'anno È un'altra cosa Non tovo perde Era fuori Era fuori Bravi No Vedi Vedi la squadra Il posizionamento Il posizionamento Bravo Senjuust Oh Lucca Me lo stanno gonfiando Dal primo minuto Comunque Bravo Vedi Che fa ripartire Cochi 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 Mamma mia Cochi Mamma mia Mamma mia Luca Che lottatore Bravo Bravo No Non è solo Diciamo che questa difesa Supporta Molto l'idea del falchismo Come piace a me Ah Va beh È lunga 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 Con calma Con calma Con calma Siamo passati Dalla stagione Tribbolata Non è che possiamo Andare Champions League Adesso Bravo Cochi No Maeda Mannaggia Questa prima partita Cosa ci dice Cosa ci dice Questa prima partita Ci dice che forse Maeda È il caso Di cambiarlo Ecco Grazie capolo Col pericento Allora Io adesso Direi di provare Un'alternativa A Maeda L'alternativa A Maeda Potrebbe essere Kissons Vediamo un po' Come se la cava In quel ruolo Intanto Intanto Cereal Grazie per la prima Sapa Vediamo Come se la cava In più Vorrei provare Anche Yoshida A sinistra Che è Giocatore Molto intrigante Yoshida Tutto pronto Comincia La seconda frazione Ma perché Bravo Sei giusto Ti saltano Però sempre Benetto Mamma mia Alendar Mamma mia Alendar Bel portiere La mavera Veramente Un bel portiere Allontana bene Il difensore Comunque Vidi ha fatto Due o tre interventi Oggi Fulguranti Si è fatto male Fofanà Vittaci tua Yoshida Yoshida Era corta Bravo Coghi Scusa Ancora Per prima Così c'è Importante Dunque La rete Del Cagliari Risultato Adesso Di 2 a 1 A loro favore Possesso Palla Nettamente A favore Degli ospiti Nell'ultimo Se non c'era Maeda C'era uno Che stava A buttare La palla Dentro Avevamo Avevamo Già Stravinta La partita Se continuano A tenere Questi ritmi Possono fare Già Bravo Chi sans Ma perché Così piano Mannaggia La morte Berna Poggia piano Bravissimo Berna Per chi sans Per Luca Per Luca Per Luca Per Luca Per Luca Per Luca Un gol E due assist Devo dire Davanti Davanti A squadra A squadra Spigna Davanti A squadra Spigna Parecchio Anche Bravo Fufanà Ma non gli hai Fatta passà Ma non gli hai Fatta passà Arco tutto Mannaggia Mamma mia Viti Mamma mia Viti Ok Debuto De Luca Not bad Devo dire E dammi il segnalino Però porco Tutto Ci sono dei momenti Che sparisce La possibilità Di controllare I difensori Ed è frustrantissima Sta cosa Mani mortacci Meno male Che c'hai Che c'hai Tre gambe Hendrup Koki Koki Fofanà pulipone Koki 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 Coglie al dibutto Coglie al dibutto Mamma mia Coglie E io l'ho detto Coglie time Coglie time Questo tiro a giro che ricorda molto Il suo idolo era del Piero Il suo idolo era Alex del Piero Il piccolo Coglie Ci sta Fofala che si sta contorcendo In mezzo al campo No maia De Coglie Comunque tre gol al dibutto Devo dire tanta roba Tanta roba Ci vuole adesso La scritta Unizzasano Bene Siamo qui con il mister Che ringrazio per aver accettato Il nostro Può fare di più Vabbè Ha giocato un quarto d'ora Può fare di più Pure il Berna Bisogna avere pazienza Ci sarà tempo per il pirata Ci sarà tempo per il pirata Allora adesso Intanto Romano sa a Catano Bella Roma Eeeh Ido non si tocca Riserva di lusso Proprio Ma farà cinque giorni di stop Vabbè Pace Ci penserò Mariano giocherà ogni tanto Mariano Mariano L'imprevisto ci impone di tenerlo Ma non di farlo giocare Per cui diciamo che si farà La Coppa Italia Allora Maeda non mi è piaciuto Maeda non mi è piaciuto Devo dirvi la verità Maeda non mi è piaciuto Ehm Intanto La bet Noi stavamo in casa o fuori Eravamo in casa Eravamo in casa Eravamo in casa Perché Perché Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Per l'ennesima volta Non mi è piaciuto Poi Garnaggio C'è sta a venire Garnaggio C'è sta a venire No ma Penso sia Sia molto più forte Però Pure Quara Io non so se Aspetta Aspetta Calma Fale Mesa Va Allora 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 Quara Mi piace un botto Ovviamente Quale preferite Scusate Facciamo un bel sondaggio Così proviamo Chi preferisci Quara Garnaggio O Zaa O Boga Al posto di Maeda Ragazzi Idealmente Al posto di Maeda Che vara Costa troppo Vabbè intanto Andiamo a vedere Garnaggio Garnaggio Cambio giocatori Con Maeda Maeda E Due milioni Maeda E Quattro milioni No Sì Maeda A te No Se non posso Se non posso No No Ragazzi Non so Piano No No Regà Costa troppo Io Ho l'impressione Che non ci sia Il tempo Tecnico Per fare Un acquisto Decente In questo senso No A parte Regà Non ce l'avrei spesi Su uno Che non conosco Guarda Un attimo Mia pura curiosità Scusate Scusate un attimo Scusate un attimo Scusate un attimo Scusate un attimo Quanto costerà Quaranta Quaranta Glieniamo Maeda E cinque Io bro Friend group E tredici No Scambia la pari Con chi sans Lo faccio No 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Mi fate morire Vabbè Seguiamolo Seguiamolo Cotardo Ah santo Mi fate morire Allora 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 Io devo seguire Devo seguire L'istinto Devo seguire L'istinto Voglio seguire L'istinto Una volta No Ma beata a te Ma beata a te Ma beata a te Ma mai nella vita No Costa drop Zola Boga Regà Io ho l'impressione Che Che conviene Venderlo E spendere soldi Per qualcun altro Eventualmente Per adesso Mi fermerei La squadra È sufficientemente Valida In questo momento Per Andare avanti Così Intanto O Si fa Un annetto In prestito Altra offerta Per Romano Offerta per Mariano Quanto vorrei accettare Mariano Tu non hai idea Di quanto Io vorrei accettare Di quanto Io vorrei accettare Ma non posso Oricchi Grazie per La prima sub Gaborgo Grazie per La sub Regalata Me l'ero persa E grazie a Valvir Per La prima Ziguit L'avevo già Ringraziato No Mi sa di no Settima Grazie di cuore E grazie a Cereal Per La prima Grazie Ragazzi Grazie davvero Tanaga Prestito Per un anno Ma quasi Quasi Ma quasi Quasi Frapp Grazie per i cento Se sposti i fili Mi devi davanti Meglio un esterno Ti devi soppi O comunque Uno che ricerca È vero Allora intanto Vediamo Novak Che cambia In CoC Senza prendere Una fava Se sì L'ultima partita La facciamo Sicuro Sicuro Io ripeto Voi mi sottovalutate Rizzo Voi state Sottovalutando Rizzo State Sottovalutando Rizzo È lui L'erede di Maeda È lui Infatti Scusate Ma se io sposto Felipe Anderson Davanti Posso prendere Tipo Udoge E metterlo A tutta fascia Abbiamo anche Un minimo Di Di copertura Allora Intanto Salviamo Dunque Dunque Non sappiamo Niente Di entrambi Allora Credo che Udoge Sia forse Over Abbondantemente Ora Gli damo Maeda Tottenham E ci metto Sette milioni Friendroop E No Porca miseria Eh Grazie a big Per i cento Sabirio Damsgaard Sono da valutare No 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 Ma non avevo idea Cioè Non volevo Dargli Friendroop Ragazzi Non c'è mai stato In testa L'idea Di fare Una cosa del genere Stavo pensato A chi altro Dargli No no Friendroop Non è in discussione Ragazzi Uno dei migliori Giocatori che abbiamo Mai nella vita Cosa sto facendo Cosa sto facendo Dunque 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 Sopi Secondo me Potrebbe funzionare Molto meglio Sarà la pari qua Qua sarà la pari Volendo Oh no Ma quando Ma quando Mai Ma quando Mai Ma quando Mai Ehm Regà Ehm Prendiamo Singo Ce lo danno In prestito Magari Prendiamo Prendiamo Il prestito 83 Niente No Di Marco Regà Ma è Tipo Totalmente Fuori Da No mettiamo Intanto In vendita In vendita Veda Maeda Arrivasse Mezza Offerta Che cazzo Vole Vabbè Andiamo A fare Intanto A partire Con la Roma E ci si Pensa 3 2 1 Porca Miseria Uno dei peggiori Rosa Che cazzo Rola C'è Tre peggiori Rosa Adesso Che abbiamo Allora I peggiori Rosa Al momento Sono O Romano E Toledo Toledo Che cazzo Rola Però Toledo 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 Mettiamo O Mettiamo O Volete O Avrete O E Felipe Però Ce lo portiamo Andiamo Il pirata Come se la Gava Oggi La partidina E proviamo Bravi Felipe Al posto De Maeda Andiamo Così Però Con Diffidenza Pirata Caroma Per forza Pirata Caroma Per forza Murice Al derby Ci siamo La bet La bet Forza Sta a voi Tutto pronto Preparatevi a vivere 90 minuti Di grande calcio Di parla Pieroggi Pardo Nel momento della verità Ragazzi Sarà durissima È partito Fofana Non lo sposti Fofana Morici Così Magliette Che si confondono Una cifra Ma non importa No Coghi Perché Ma cos'è Ma cos'è Ma cos'è Mamma mia Sta messo Peggio De quanto Pensassi È tornato In modalità Lazio Puraccio È tornato In modalità Lazio Prepotentemente Mamma mia Dai Pipe Aiutami No Mamma mia Mamma mia Andai La cattiveria Coghi 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 L'arca Mi sera Si è allungata Sull'ultimo L'ultimo Tocco Gonzalo Guedes Gonzalo Guedes Mamma mia La difesa Che difesa Vedremo se ce la farà Vidi Se è fatto male Ma che cazzarola fa Ma è un tiro a giro Mamma mia Vidi ancora Ci è rimasto Sua scivolata Vidi Non l'ho mai vista Sta cosa Che si fa male Scivolando Fofana Ammazza Il campo si tiene Pipe 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 Ma perché Vidi è morto Percentuali sul possesso Palla Praticamente uguali E l'immagine Di un match Che va sui binari Dell'equilibrio Poca emozione Ancora meno Volevamo Vidi Una giocata Solo Una giocata Di un singolo Può far saltare il banco Da questo possesso A disposizione Possono Senz'altro Far male Bravissimi Ancora Con Murici Un po' lento Ne ripartire No Ma che Un replay Che non penso Vorrà rivedere È un autogol sfortunato Ora deve lasciarsi Tutto alle spalle E concentrarsi Solo sulla partita Vidi è arrivato Fontana Rosa Dentro E Andando benissimo La maledizione Di Neilland Ha colpito Stava a fare Una partita Pazzesca Vidi Con tutto L'infortunio Con tutto L'infortunio Con tutto L'infortunio Porca Miseria Vabbè Buttiamo dentro Luca Va C'è bisogno De uno Comincia Ora Il secondo Tempo Luca Si gira Pipe Ah Tua Le pia tutte Fofanà Le pia tutte Ogni presente Ottima lettura Difensiva Pellegrini Possono partire In contropiede Attenzione Ottimo Il recupero Passaggio Non esattamente Perfetto C'ha il vizietto De core Davanti Indaglie No Si espone Indaglie Si espone Io non posso Credere Che tipo Di gol Stiamo perdendo Questa partita Comunque Al di là Della sconfitta Che ci sta Squadra Che tiene Squadra Che tiene I segnali Sono Veramente Considerando Che veniamo Da Una Salvezza A fatica E stiamo Ancora Un po' In rodaggio E stiamo Quo Titolare Per Il colpa Dell'imprevisto Partita Dignitosissima Dignitosissima Oggi Stondai E Tipo Il difensore Più Forte Che io Ho avuto Quest'anno Ma Mani Bassissime Bravo Berna Che cazzo Rola fa Ma cosa Fa Vabbè Comunque La partita Scriptatissima Cose Turche Oggi E L'immortacci Vostra Certo L'asse Lucca Cocchi E E Una Roba Veramente Pazzesca Pure Qua Assist Stegol Loro Due Giovanni Del Gol Dai Dai Che c'è Tempo Cambio Un cambio Se fanno Un tempo Volevo Volevo Provare Mettere Samek E Kissons Eppure Joe Su L'esterno C'è pochissimo Tempo Ma E Fammi Passare Giocatore Che dico Io Parca Misera Non Te Fanno C'è Tempo Niente Non c'è C'è Tempo C'è Tempo Impossibile Impossibile Pareggiarla Sta partita Incredibile Koki No Oh Vabbè Abbiamo fatto Una partita Estremamente Dignitosa Estremamente Dignitosa Però Un po' così A volte un po' teleguidata Sta partita Però ci sta Però ci sta Devo dire Sette tiri a due L'avamo presi appallonate Hanno fatto due tiri Pronostico Ha vinto la Roma Quindi Uno Comunque Va bene Cioè Io Non Ci sta Siamo Una Non più Neopromossa Ma Poco ci manca Veniamo Da una salvezza Clamorosa E Io Devo vedere Vidi Che si è fatto Però Devo vedere Vidi Cosa Si è fatto Cosa Si è fatto Vidi Porco Meno male Che abbiamo Preso A questo Punto Meno male Che c'è L'abbondanza Allora Fatemi ringraziare GPR Per la settima Braccaldo Per il Falchi Versario Grazie di cuore Sono due mesi Che non riesco a beccare Una diretta Con i turni Grande Grazie per essere qui Geolaz Grazie per l'undicesima Salvezza Fatica E Eufemismo Dell'anno Masce Grazie per la 17 Grazie Grazie di cuore Tempo permettendo Quanto forse I video finali Sono un macello E Abbastanza Dunque Regà Intanto Gli obiettivi dell'anno Che non abbiamo neanche guardati Tre giocatori Con meno di 20 anni Con potenzione La valutazione Medi Gio Direttamente con il ruolo Aiuto Fama del brand Che Cosa Ma cosa Ma perché Ma non c'ha senso Ma poi ho preso All for one Non vale Riduci Sì Vabbè Ne piglieremo due scherzi A gennaio Ma porco Tutto Vabbè Richiamo Vulikic Richiamo Vulikic Mannaggia Meno male Meno male Che ho preso Vabbè 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 Abbrosa Allora Intanto Richiamo Vulikic Che Penso Sia Non richiamo No Non richiamo Nessuno Non richiamo Per adesso Per adesso Ci stanno Fontana Rosa E Ito Vanno bene loro Per adesso Non ci mettiamo Non Andiamo nel panico Non andiamo nel panico Con calma Con calma Non c'è Non c'è Fretta Pure O Se ne è andato A fa Così magari Torna Con più De 70 Sarebbe Pure Ora Romano È andato Meno male Pure Romano Prestito Per Ferreira Due anni Ma al massimo Te richiamiamo Anton Giochi Gio 21 milioni No 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 Sinceramente No La live Finisce A fine Mercato Sì Io direi Di tenerlo Ragazzi Questo momento Non abbiamo A gennaio Eventualmente A gennaio Adesso Non è il momento C'è Servono Esterni A gennaio Eventualmente A gennaio Ce se pensa Ciao Ferreira Così Li fammo Salì Questi Devono Sali Un po' Perché Adesso È troppo Sono troppo Bassi Ragazzi Toledo Pure questo Se andasse Sarebbe Un'ottima Cosa Allo Spezia Un anno Yoshida Scambio De Che Con Romeo Lavia Ma Assolutamente No Ma Assolutamente No Ma Ma Assolutamente No Cioè Piuttosto Me lo vado A comprare Ma me lo vado A comprare Ma perché Devo Sacrificare Perché Devo Sacrificare Se 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 Tanto Lo danno Direi che Lo valutano Quella cifra Lo compro Piuttosto Se ci piace Non c'ha Senso No Andiamo a Vedere Com'è Grazie a Masce Per la 17 L'ho Detto Prima E Grazie a Steve Per la Sabre Calata Grazie Di cuore Nome Olavia Raga Ma Che È Nella Media Di Altezza Per Un Mediano È Lento Che Ce Devo Fa Io Con Questo Non Mi Piace X Frax Grazie Per la Terza Grazie Di cuore Poi Raga Ripeto In caso D'emergenza Abbiamo Una Ricchissima Primavera Noi Eh Yoshida Ci stanno A cercare Tutti Yoshida Non Se Tocca Yoshida Non Se Tocca Grazie Steve Me l'ero Persa Perdonami Grazie Grazie Mille Il Vivaio C'ha Della Gente Che Potrebbe Cioè Flavio Bianco Volendo Può Salire Non C'abbiamo Un 70 In Questo Momento Però Qua Stanno Stanno Tornando Con Molta Calma Ma Raga Io Due Soldi Voglio Tenermeli In caso Di Di Bisogno 20 Mio Per Per Stanno No Stanno Stanno Si Tocca Ma Di Chi Ci ha Reso Conto Raga Ciao Toledo Sassuolo Sassuolo No Ce ne sono I suoi conti Raga Io Infatti Non voglio Tenermi Un Piccolo Fondo D'emergenza Se Dovesse Servire Un Qualche Tipo Di Innesto A Gennaio Ma Non Anche Gli americani Ne parliamo Insomma Quando Sarà A Gennaio Se ne Parla Allora Intanto Vabbè Il risultato Abbiamo visto Poco fa Non c'ha Senso Za Che cos'era Era un 81 Ragazzi Za Era un 81 E L'avremmo Potuto Prendere Ma Io Potete Corsa Mariano Ma Scusate Ma Se io Intanto Vendo Mariano Tanto Adesso Non Si può Fa Niente No L'obiettivo Com'era Ora Lo posso Vende Scusate Com'è Che dice Un attimo Scusate Un attimo L'obiettivo Sarà Protetto D'aventare Cessione Con il blocco Tutte le offerte Di mercato Ecco Adesso Il mercato È chiuso Mo Posso Vende Ciao Maria Eh Andiamo Su Due sordi 4 e 6 Prima che Te svaluti Ancora Bello De casa Eh Vedate 5 e 5 Dai 5.500 Marianone Bella Così A gennaio Se ne va Ciao Maria Non l'abbiamo Mai specificato Se fosse Solamente Per gennaio O per Quindi Per dubbio No Perché Ce fanno Veramente Niente Ragazzi Da qua A gennaio Magari Capiterà Che possa Giocare Niente Non ha preso Nulla Non ha preso Nulla I resoconti Sono arrivati I resoconti Mensile L'abbiamo Visto Minamino Minamino Ramos Lino Riveros Stanno Bei giocatorini Stanno Un'offerta Per Maeda A gennaio A gennaio Vabbè Andiamo Andiamo Carmine grazie per la prima sub Grazie di cuore Ma io non capisco da me che vogliono questi Reso conti Vabbè questo non ci arrega più niente In questo momento Sì dobbiamo mandarlo Ah bravo Allora intanto Alvarez Bastare Voglio gente che costi una fracca di soldi Se non sono quelli No Cioè ormai Fosse far salto di qualità O basta perché A Gudelo c'ha Giordano Portiere questo lo valuto Berardi Villa no Russo da valutare Valentini Potenzialmente Ricci No Vabbè sono tutti andati Ehm Qui abbiamo già fatto Sì Allora sono Sono tutti andati Intanto non c'è niente Di interessante Allora Pietro Leone lo mandiamo in America Così facciamo Lo mandiamo nove mesi a cercare un qualsiasi Akpan Akpan Benjamin Ali Balogun no Balogun no Amos Limortashi Sì 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 Devo promuovere qualcuno Vabbè che domande Dov'è Rizzo Hai fatto 18 anni Rizzo è il tuo momento Bravo Rizzo Amos dentro John John no Amos no Mohamed Mohamed Ci mancavano gli esterni abbiamo detto Ehm Dunque Ci starebbe Amos Ah Amos appena entrato Che è un 17enne Di 65 Dove roll Agilissimo Buon dribbling Buon controllo palla Mica male Mica male Grazie a Steve Per l'altro abbonamento regalato Grazie di cuore Regalo 80 abbonamenti Oggi Si attiva Proviamo Amos Dai Lui no So So curioso Sarei curioso di provarli Tutte e due Ma non so No vabbè basta così Va bene così Allora Dove li mandiamo Questo sta in America Gli altri due Per l'obiettivo Nord America Non contano i giovani Bene Ottimo Allora Voglio un portiere giapponese Sei mesi a cercare un portiere giapponese E l'ultimo Lo mandiamo In Ma un bel Cameron Come ai vecchi tempi Africa Basta Italia Italia fisso avrebbe senso India vogliamo taccare Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace questa idea Nove mesi in India Avanti così Mi avete convinto Mi avete convinto Ciao Mariano A gennaio se ne va Cancelerà un po' Il dolore Il dolore Della gestione di Asano Questa Novak Vuole andare via Frangio Frangio Che faccio Caccia basta So d'accordo Allora Mandiamo via quelli sotto al 90 Dai Pulizia in primavera Balogun Addio Potenziale sotto al 90 Li mandiamo tutti via Però Tranne lui Richard David Lui in se tocca Ivan Marquez Ciao Nicolás Arias Ciao Giulio D'Angelo Piccoli Piccolino D'Angelo Però io Movederei Le borghe di Falco Bel lavoro Col progetto Bene Questo è fatto Ho fiducia in te Maurizio Che non diventi un vizio Però Poi abbiamo detto Il giovane Che è appena arrivato Che è un equilibrato Amos Lui fa l'esterno Tutta la vita Yes Servizio De Maurizio E poi C'è nessun altro? No Stava a posto Amos COC Dite Amos Cio Cio Dunque Vediamo un po' i prestiti Fiore è fermo O ha preso un punticino Tanaka e quell'altro Niente Mairic ha preso già un punto Endo 0 Kimono ha preso 1 Ferrero ha già preso un punticino All'ester Tanta roba Romano 1 Sakai ha già preso 1 Toledo 2 Allo Spezia Gli ha fatto bene Alla cura Spezia A Toledo Bene Ragazzi Manca Rizzo Mi sono perso Rizzo Dove sta Rizzo? Pauro Rizzo Pauro Rizzo E Rizzo Fa 100 euro al pesto No fa l'ala Rizzo Facciamo S Che fa Rizzo? S dai No Rizzo ragazzi Non si tocca Ogni Rizzo Un caprizzo Esatto Va messo AS C'ha 39 Di finalizzazione Le cappe fa la S Però mi sembra un po' Un azzardo Rizzo Vendere pizze Fuserback Grazie per l'esame 2 Grazie Vabbè ragazzi Abbiamo fatto Abbiamo fatto abbastanza Devo dire Oggi Andiamo Preparma Kvara Quanta era? Perché Stil? Cosa ho fatto? Kvara 82 Per il suo video D'arte Ragazzi Allora Questa settimana Credo che Essendoci solamente Importante Chissà Sai cosa Sai fare Consigli Cosa si pensa Poi Aveva donato 20 Ma come Aveva donato 20 Ragazzi Io non li vedo Se non Cioè Purtroppo Vedo solamente Le cose di Twitch Scusatemi No Ha donato Uno Prima Steve a me risulta 1 euro 35 minuti fa Di cui Ti avevo ringraziato Perdone Non ci ho segnalato Altro Se c'è altro Non me lo segnala Non risultano Sti 20 Ragazzi Ma non risultano Ragazzi I 20 Minimamente Posso Screenarvi La lista Non c'è Ragazzi Non ce sta Ragazzi Allora Io direi Per adesso ci fermiamo Anche perché sono le 7 Ed è tardino Io devo poi Rimontare tutto Per domani E vorrei Che abbiate Abbiate Il video Entro le 8 Almeno Entro le 8 Quindi Per adesso Grazie Per oggi Ragazzi Abbiamo salvato Il salvabile Abbiamo un cochi Potenziale erede Del nostro Lasano Il rimarrare Il nostro cuore È stato qui Sulla mia spalla Tutta la partita E la Incornicero Presto Quindi Per adesso Va bene così Noi ci vediamo Con l'episodio Canonico Venerdì Venerdì Mercoledì Avrete questo Verso le 8 Domani sera E poi Si va avanti così Ragazzi Io per adesso Direi che È tutto E Ragazzi Noi ci vediamo In settimana Credo che venerdì Faremo una live Magari Per fare due chiacchiere Visto abbiamo fatto Parecchio fifa Stasettimana E niente ragazzi Un abbraccione E noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima